Armino dell'incontro Lorenzo Mosca Grazie 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 Bravo Così Bravi Attento 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 Vita dritto Vita dritto Tempo Angolo neutro Tempo Vai Vai Tento Vai 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 Bravo 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 Tempo 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 Po Tempo Tempo Py bonding Va dentro, va dentro, va dentro, va dentro, va dentro! Fuori in secondi! La seconda ripresa! Tempo! Fai! Lo qui, il destro! Bravo! Vem! Bravo! Ancora non è! Andrea! Non pensare! Oh! 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 Eh, non la devi fare! Tempo! Vai! Oh! Presta! Stop! Bravo! Vai! Stop! Let's go! Tempo! 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 Vi getting anucky Kidino, verona! Vai! Vediamo. Traёлci il puzzle! Vai dentro! Vai dentro! Vai dentro! Vai dentro! Vai dentro! Dentro! Vai dentro! A me! A me! Entra le cirocchiali! Vai! Stati a cirocchiali subito! Tempo! Tempo! Vai dentro! Vai dentro! Dentro! L'altro caso! Tempo! Vai! Ehi! 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 Vai! Vai! Stop! Ehi! Ehi! Bravo! Ehi! Ehi! Vai! Francesco! 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 Vai! Francesco! terza e l'ultima ripresa 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 e l'ultima ripresa